Ora vediamo, ma per me Gian Vito non è una sorpresa che abbia fatto una partita del genere e quindi vediamo, vale un po' il discorso di tutti gli altri ragazzi se immaginate che ho lasciato fuori Tiam, Paghera, ragazzi che ne dovrei fare tutti i nomi di Gaetano questo è principalmente merito dei ragazzi che stanno lavorando benissimo quindi Plasmati era pronto, è sempre stato pronto perché me lo ha dimostrato tutte le volte che è andato dentro sei minuti, cinque minuti, non è facile per un attaccante entrare sei minuti entrare sempre con grande determinazione, con la voglia di far bene a Modena ha fatto 22 minuti, ha avuto due occasioni quindi va bene, è una risorsa non in più perché io lo sapevo già che c'era e quindi mi aspettavo quello che ha fatto, che ha dato quindi la sua candidatura a un posto da titolare comunque è ancora di più perché insomma è già due gare che entra sia a Castellammare che questa gara ha fatto molto bene, adesso vediamoci tutta la settimana per fare delle valutazioni Grazie 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 Grazie